Ancora una truffa ai danni di anziani vittima, stavolta una coppia di ottantenni di agnone è accaduto in pieno giorno. A raccontarla sono i nipoti con una lettera inviata in redazione. Tutto è cominciato con una telefonata che marito e moglie hanno ricevuto intorno a mezzogiorno. Qualcuno si è finto un nipote chiedendo un favore perché malato e costretto a casa. I nonni avrebbero dovuto ritirare un pacco, sarebbe arrivato un corriere a consegnare un computer, avrebbero dovuto pagare 2.500 euro, cifra che sempre il finto nipote avrebbe poi restituito da parte dell'anziana coppia qualche resistenza, ma il pianto del giovane i due hanno ceduto. Poco dopo di nuovo lo squillo del telefono. Stavolta era il finto corriere che si è fatto dare indicazioni su dove portare il pacco, l'indirizzo. Mentre avveniva la consegna, sempre al telefono la persona che si era spacciata per nipote spiegava che gli anziani avrebbero dovuto pagare un altro pacco anticipando ancora. La somma era troppo alta, non avevano tutti quei liquidi. Il finto nipote ha chiesto di dare l'oro che avevano in casa. In qualche modo li ha convinti a farlo. A quel punto il corriere truffatore ha preso la refurtiva ed è scappato. Il raggiro è stato scoperto perché i due anziani in qualche modo avevano staccato il telefono e i nipoti non riuscivano a contattarli. Preoccupati sono andati a casa loro, che erano ignari di essere stati truffati e hanno ripristinato la linea. Quindi hanno capito tutto. Il nipote vero, quello coinvolto a sua insaputa nella truffa, si è fatto raccontare dai nonni cosa era successo. Quindi la denuncia ai carabinieri di Agnone, che nelle mani ora hanno la descrizione di un truffatore di circa 20-30 anni, magro, con carnagione olivastra, maglietta nera, cappellino nero e pantalone chiaro. In poche ore è riuscito a portare via nel complesso circa 7.000 euro. I risparmi sarebbero serviti per lavori in casa nel pacco da quello che si è appreso, c'erano degli orologi anche rotti.